buongiorno a tutti siamo ad abono terme a casa di gilberto dove abbiamo realizzato un intervento in super bonus sostituendo la caldaia esistente con un sistema ibrido della immergas e installato un impianto fotovoltaico da 8 kilowatt con ottimizzatore di potenza un sistema di accumulo da 30 e una colonina di ricarica per l'auto elettrica della testa bene gilberto allora vuoi raccontarmi la tua esperienza come ti sei trovato ciao a tutti devo dire che mi sono trovato molto bene più delle aspettative fa piacere il lavoro è stato fatto bene con calma con precisione il personale e tutte le due ditte che mi hanno seguito hanno lavorato più che bene e molto meticolosi puliti anche simpatici molto soddisfatto in tutto molto bene molto bene quello quindi che ti ho promesso anche in fase di consulenza sei stato puntualmente pienamente sia con le tempistiche e anche con tutto il lavoro e lavoro svolto quanto hai pagato per tutta l'operazione sembra incredibile però ho parlato solo 122 e più 40 per il discorso della enel allacciamento e allacciamenti e e dopo verso 200 euro solo può passare da 3 kilowatt a 6 kilowatt l'aumento di potenza esatto per quanto riguarda i lavori giustamente per quanto riguarda i lavori e tutto quanto come come mi era stato promesso tutto compreso nel bonus 110 molto bene ci consiglieresti quindi a qualche amico assolutamente si hai trovato semplice l'utilizzo dell'impianto se non è affatto difficile e poi avendo anche l'app che mi dà proprio le spiegazioni proprio i minimi particolari sono i consumi i guadagni e tutto corso così molto bene gilberto io ti ringrazio per la tua testimonianza grazie per averci messo la faccia e se hai bisogno di qualcosa sai dove trovarci grazie marco di tutto questo grazie ancora di giallo ciao 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 ciao